50 anni dall'alluvione che colpì Firenze e l'intero bacino dell'Arno. Nel capoluogo toscano la giornata del 4 novembre 1966 nella quale l'acqua invase la città danneggiando il suo enorme patrimonio artistico sarà ricordata con una serie di cerimonie alla quale prenderà parte il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I protagonisti assoluti saranno gli angeli del fango, le tante persone arrivate da ogni parte del mondo per soccorrere Firenze in un momento così duro per la sua storia. Vogliamo che sia prima di tutto un momento di grande ricordo nel quale si raccolgono tutti coloro che hanno vissuto quell'esperienza ma anche coloro che non vivendola ne hanno tratto ispirazione o lezione e quindi non ci resta che aspettare davvero queste giornate per ricordare ma soprattutto per impegnarci a non commettere gli errori del passato. Ricchissimo il programma di iniziative che si aprirà la mattina del 4 con un consiglio comunale straordinario al quale seguirà una santa messa celebrata dal cardinale Betori che fu a suo tempo angelo del fango, un insieme di volontari che a 50 anni di distanza faranno d'accollante a tutte le iniziative in programma. Tra le cose da sottolineare nella giornata la ricollocazione del restauro dell'ultima cena del Vasari a Santa Croce e dopo la cerimonia ufficiale in Palazzo Vecchio alla presenza del presidente della Repubblica in serata la fiaccolata dalla Basilica di San Minato al Monte fino a Piazza Santa Croce.